Sì, mi fa un po' ridere che ci sono un sacco di bug e hanno risolto la stretch E' pure brutto che i giocatori da console ci becchino a noi di pc, secondo me è sbagliato Tutto questo e dovrebbero cercare di fare le cose in modo diverso ragazzi Dovrebbero levare il cross platform, il cross platform ci dovrebbe essere solo se giochi con qualcuno da console Pure i console player che giocano i tornei, tipo le FNACS, non si è mai visto qualcuno nemmeno arrivare in top 500 Io non so, è comunque la capitale del Veneto E comunque Davide non ha fatto neanche una... No, la capitale del Veneto è Verona Oh Dio Oh Dio Ma scusa, raga a me hanno detto che... M'ha spaccato, mi ha spaccato quello spa... Ah ma tu non sei entrato in quello... Ah avevamo detto... avevamo detto... Ok... 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 Non ridiamo, non ridiamo, non ridiamo, per favore, non ridiamo qua... Non ci posso... No, no, non ridiamo, no raga, non ridiamo qua, raga Aspetta... No, no... No, 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 non c'è da ridere, non c'è... Trovate di Mosco No E fa vomitare Eeeeeee 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 Cosa? Cosa? Non ho visto, c'è una clip? Qualcuno può clipare? Cosa? Mandarla in chat, per favore? No, no, queste queste... No, ti vado proprio nel replay Avevo 102 Vado a dire Mentre cazzo suono? OI Ma... Te sei coglione? Cazzo abbaio I or... No dammi Alla Oh mio dio Freshatoo Magari bravo quindi, è fresa, è stracid E' già finita è finita è finita è finita è stato tipo un'immersione nei vecchi tempi è stato tipo un'inculata da cioè è stato tipo sesso con la tua ex che ti piaceva talmente tanto e poi te l'hanno tolta capito? e poi ritornata quella di prima ci hanno illusi? ti giuro che io ero convinto che l'avrebbero lasciato per qualche motivo ero proprio convinto ho detto ma si è figa alla fine capiranno che è positiva come cosa niente ma perchè non vedo la chat? ah connessione alla chat oddio io stavo dicendo questa cosa perchè pensavo a questi 0 spettatori sono prostrato frana non ha senso io lo sto usando perchè non si provo eh ti crasherà il gioco tra poco il gomme io pure come sento ma lui c'ha crashato il gioco e l'ha buttato pure mi sento otto volte più fluido però c'è sei fortissimo vecchio quanti sei forte vettina calmata guarda come c***o cannello dio santo ho toccato l'altro ma dai vecchi ma perchè hanno lasciato la no ma non è giusto per nessuno cioè perchè ma se tu vedi l'80% della tua community triste no? ma rimettila non ho capito io sono dovresti non è che son triste sono dovresti non sei dovresti non sei dovresti non sei dovresti per l'altro per l'altro per l'altro per l'altro devi mettere le basse non devi utilizzare il bug fra mai ce l'aveva e non è partita non so ma io non ho più amazon prime ah ce l'ho ok ah ce l'ho ok da noi amazon oggi non ha consegnato dici perchè? per farti capire no per farti capire il livello ah ok ho capito aspetta che significa questa cosa aspetta 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 a me deve arrivare il mouse che significa che non lo vedo più? eh però mi sa oh no è finito è finito a me funziona così senza fare il bug del brutto io ne pensavo la vuoi provare un attimo ok è già un secondo che me lo dice spara quello in volo spacchi di botte parco di te è è è oh 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 ah shiiiitt non chill non chill non è un kill l'altro 300 mazza non so ok non marte sono solo v2 Te li fai, te li fai Hai levi snipe, non c'è chi non è me Hai scarico Vecchio Vecchio ha tirato uno schiaffo quella Wait what? Oh beh il contro E' sopra Forse C'è uno lì sopra E' il teammate o no? No non penso Oh my god Now he's crazy Il mio Q Il mio Q ragazzi Il mio Q Hai fatto la play dell'Anna Fava pure il da Ok a proposito Fa questo Ok 20 C'è altri sotto Non è mio il muro là C'è dietro nel box E' un 200 Una qua dietro di me Sta salendo Io penso la scatola 121 No Non l'ho pompato Ah vai tu 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 Madonna mia No Sì, è stato fatto? Sì, è stato fatto? Sì, è stato fatto? Sì, è stato fatto per a dire Uno lo hizo Grazie a tutti.